Tante persone quando ti guardano e ti dicono che sport fai, tu dici giochi al rugby, tutti fanno un po' la faccia come per dire sei donna e giochi al rugby. Confrontandomi con gli atleti o nello sparring o facendogli fare le figure con i colpitori, capita appunto che devo tenere il ritmo al massimo e lo faccio a volte un pochino con quel senso di dover dire ce la devo fare, devo dimostrare qualcosa in più perché appunto sono una donna per mantenere questo ruolo rispetto a un uomo devo far vedere che ce la faccio ancora di più. Non è stato facile giocare in quegli anni perché comunque ogni occasione era buona affinché qualcuno ti dicesse sicuramente sarai una persona non normale, sarai un po' matta, sarai pazza. Grazie per la visione!